Ecco, lei nei giorni scorsi è stato anche al centro di alcuni articoli di cronaca insieme ai suoi colleghi in quanto avete fatto un lavoro davvero spettacolare, avete operato più di 200 metri di altezza. Sì, sì. Può raccontare. Più che altro quando arrivi su con l'elicottero, che arrivano i pezzi, che si muovono un po', allora è un po' un casino, un casino perché sei lì un po' incerto anche te. La paura è sempre quella, la paura è del burlazovo. Si lavora abbastanza sicuri o c'è sempre un po' la paura? Sei sicuro, sei sicuro perché c'è doppia cinghia, è anticaduta, hai tutte le tue robe inserite. Però l'elicottero non è mai come una gru, quello che è male, lui se perde un po' di quota, cala, tira, lui sta sempre all'esico, allerta. Sempre attenti. Sì, sempre attenti. In sicurezza, ben legati, ma le gambe non tremano un po'? No, quelle no, assolutamente. Se no non staresti neanche su. La paura c'è sempre, però non è che tremare. C'è la paura di cadere, però vi sentite sicuro. Sì, ti senti sicuro, perché a te ti tocca lasciarti andare, te vedi sempre il vuoto su tua. Te non è che sei attaccato con le mani, le mani sono usufruibili per lavorare a te, basta. Tu sei sempre attaccato, la tua cinghia è come uno che lavora, come uno che, quelli che fanno, che lavorano sulle rocce, con la stessa cosa. Come uno scalatore. Come uno scalatore, la stessa cosa. Lei però prima faceva un lavoro diverso. Io ho fatto il pastore da ragazzo, ragazzo vado al pastore, dopo mi sono divertito con le... Quando ho iniziato a sposarmi, iniziano i casini e bisogna andare a fare d'altro. Però alla fine si trova bene questo lavoro. Sì, logicamente. Farà ancora qualcosa di simile? Faccio ancora lo stesso. Adesso lavoriamo sui tralicci noi, perché quella ditta qui lavora anche sui tralicci, sui tralicci dell'alta tensione. E anche lì ci sono anche dei pali di 70, 80, 100, dipende da quello che trovi. Però qui eravate a oltre 200 metri di quota e soprattutto su un palazzo molto importante per la regione. Sì, sì, la mia fatta su... La ditta è questa qui di Colico, è stata lei la ditta. Dopo ho messo su anche parecchi led e roba varia sopra, quando abbiamo terminato l'antenna.